Marco, sei entrato al secondo tempo, hai avuto un ottimo impatto con la gara. Subito, Pimpumpa, sei entrato subito Pimpante, hai dato qualcosa in più che c'era bisogno in quel momento. Sì, sei entrato con voglia, con voglia di dimostrare, di giocare bene le occasioni. Siamo riusciti da una scossa alla partita, stavamo per fare già, però poi con contropiede siamo riusciti più alla partita. Bello l'assist per il gol di Perna e anche quel bel tentativo quasi per il 2-2. Sì, sono contenti di come sono entrato, però troppo non è abbastato. Quindi, non bisogna lavorare per aiutare il massimo. Una nuova stagione, quindi abbiamo visto un nuovo capano formato titolare, che dici? Ancora non del tutto, spero di guardare il mio spazio e speriamo di ripeterci, se non di fare anche meglio ripetere la scorsa. Per quanto riguarda invece la partita, la disposizione in campo, abbiamo visto un po' di cambiamenti, però comunque tutto sommato avete fatto una buona partita. Sì, abbiamo ancora degli infortunati che in gioco forza ci hanno fatto cambiare un po' le ruole in campo, però comunque la squadra c'è, i giocatori sono molto adulti e riuscivano a riferirci al meglio con la situazione. Grazie. Grazie.